ok thomas in finale ha una voce per san marino thomas ti senti pronto per la finale non vedo l'ora veramente sono qui che aspetto ma non vedo l'ora di salire sul palco anche perché devo dire che stiamo facendo veramente un lavoro molto accurato in generale noi artisti abbiamo la possibilità di provare parare con la regia insomma creare veramente qualcosa di meraviglioso non vedo di presentare il mio pezzo in questa chiave hai visitato san marino in questi giorni iniziate un pochino conoscerla non è non ne ho avuto il tempo in realtà visti visto appunto i ritmi di lavoro poi sono arrivato ieri quindi siamo buttati subito sulle prove però insomma conto di sicuramente di vedere qualcosina cosa ci puoi dire sulla canzone che porti in finale 23 23 un brano cui sono veramente molto legato 23 è stato un numero ricorrente nel mio 2022 che mi ha portato a crescere no e quindi era secondo me la canzone più adatta per iniziare e dare il là a quello che sarà il mio 2023 artistico è un inno una sorta di dedica che faccio a tutti quei cuori divisi a metà da chilometri opportunità ambizioni diverse ma che nonostante la distanza hanno il coraggio e la forza di amarsi e supportarsi a vicenda quindi l'amore a distanza secondo te può funzionare sì maybe dipende sempre dalle coppie no no ovviamente un tema forse più grande di noi dipende da relazione relazione saresti pronto per l'eurovision in casa di vittoria il sogno c'è tutto l'eurovision è da sempre un palco che vorrei calcare come dire la mira di presentare la mia musica davanti un pubblico così vasto così internazionale insomma sicuramente molto alettante quindi crociamo le dita assolutamente in bocca al lupo thomas grazie di cuore buona musica grazie